Presidente, oggi devo dire che ci ha deluso. Mi aspettavo, ci aspettavamo un po' di più. Ci aspettavamo qualche promessa, Presidente, che oggi non ha fatto. Le do un consiglio, 80 euro per i deputati di PD che votano la mozione di maggioranza, 80 euro alle maestre che insegnano gli igni pro Renzi quando va nelle scuole, 80 euro ai Presidenti della Regione come la Serracchiani che dicono che è giusto tagliare la sanità ai propri cittadini. Invece nulla di questo. Oggi il nulla più assoluto non ha assolutamente fatto accenno ai drammi che stanno vivendo i nostri cittadini e le nostre imprese. Presidente, questo per dirle che ci divertevamo di più con le sue balle rispetto al nulla odierno. Lei non ha detto nulla, ma la Lega Nord vuole riportarla alla realtà. Alla realtà di quella fantomatica legge di stabilità dove, altro che 80 euro alle leomamme, lei porta le pensioni ad essere pagate al 10 del mese, colpendo in modo irresponsabile e vergognoso i pensionati e gli anziani di questo Paese. Lei colpisce, dopo sei mesi di campagna elettorale imbarazzante dicendo che tagliava l'IRAP alle imprese, va ad eliminare quella riduzione dell'aliquota in modo retroattivo, aumentando le tasse delle imprese anche per quest'anno. A discapito dei suoi proclami sulla diminuzione delle tasse ha preso in giro imprenditori e adesso va a mettere le mani nel portafoglio di quelle imprese che stanno resistendo alla crisi e stanno garantendo i posti di lavoro in un momento di forte crisi occupazionale.